Dopo la prima udienza dello scorso 18 maggio, questa mattina al Tribunale di Pesaro c'è stato il secondo incontro della causa civile, che dall'incidente del 25 maggio 2014 attanaglia la famiglia Moneti. Una notte, quella, che ha stravolto la vita di Alessandro e di chi gli vuole bene, portandosi via non solo le pacifiche abitudini della loro vita, ma apparentemente anche ogni elemento che potesse far risalire alla reale dinamica dell'incidente. Complice di quella nuvolosa vicenda, il pirata della strada, che dopo lo schianto tra la sua auto e lo scooter del 26enne, avvenuto verso le 4 del mattino in via Gradara, sarebbe fuggito senza allertare i soccorsi. Nel corso del primo incontro il giudice ha ascoltato il testimone di quella notte, considerando le sue parole attendibili e procedendo ora, dopo la seconda udienza, con la disposizione della perizia medico-legale. È stata fissata oggi la perizia medico-legale, la CTU, presso il dottor Braccini nel suo studio a luglio, al 13 di luglio, quindi poi ci saranno i termini per depositare la perizia. Quindi tutto è andato secondo le previsioni, insomma noi abbiamo nominato il nostro consulente, poi ci sono i termini tecnici per depositare le perizie, 60 giorni per depositare la perizia con le osservazioni dei vari consulenti, e quindi poi il processo viene rinviato, aggiornato a marzo del 2024, poi si avrà la sentenza entro l'estate dell'anno prossimo. Quindi tutto è andato come speravamo, ragionevolmente c'è da pensare che ci sarà risarcimento dopo la perizia. I danni di Alessandro sono talmente evidenti, talmente grandi, purtroppo è evidente che avrà un grande risarcimento dei danni. Quanto grande non lo possiamo dire, perché sarà il medico-legale a stabilire esatto punteggio, certo però si parla di danni importanti, insomma, quindi ovviamente siamo contenti per lui soprattutto, perché oltre che per il fatto che si sia fatta giustizia su un caso che era aperto da tanti anni, ma senza una soluzione. Quindi questa è la soddisfazione più grande, perché lui potrebbe riaprire una nuova fase della vita. Se i positivi sviluppi sull'incidente dal punto di vista giuridico potrebbero portare un po' di serenità tra i moneti, ecco che a negargliela c'è di nuovo la questione sulla loro abitazione. Alessandro e la sua famiglia, dopo il complicato sgombero del loro appartamento di Soria ed essersi sistemati provvisoriamente da una loro zia, sarebbero dovuti entrare dal primo di giugno nella loro nuova casa in affitto a Loreto. Così però non è stato. La signora 84enne, proprietaria dell'immobile, che mesi fa aveva firmato un contratto con Giuseppe, padre di Alessandro, a sorpresa si sarebbe tirata indietro. I moneti però, nelle settimane precedenti al primo di giugno, avevano già sistemato alcuni mobili e portato diversi scatoloni di vestiti in quella che sarebbe dovuta essere la loro nuova dimora. Ennesima questione che passerà però per vie legali. Purtroppo si è aperto un contenzioso anche su quello, perché la signora che aveva deciso sulle prime di affittare la casa e aveva firmato un contratto, adesso si sta tirando indietro. Però siamo in contatto con il suo avvocato per trovare una soluzione. Probabilmente chiederemo i danni e la restituzione di quanto dato, della caparra, e chiederemo i danni per il disagio patito. Però è una fase che stiamo trattando adesso con la controparte, quindi non dobbiamo solo decidere che entità di danni chiedere. Quindi la speranza vostra è che poi venga trovata un'altra sistemazione? Sì, probabilmente andrà trovata un'altra sistemazione, quella di adesso comunque anche se provvisoria può starci per un periodo perché loro per il momento vivono lì e hanno iniziato la loro vita lì. Poi si vedrà se troverà una soluzione più confortevole, bene, però al momento dobbiamo prima risolvere la questione della casa in affitto e poi decidere il resto.